Luca, tu senti questo nome, quello di io dal mondo intero, che è una calca che stai pensando, giusto? Ti ho mai fatto di dire una calca? Non potrò mai più mai sapere lo so. Assolutamente. Buonissimo. Ora ti chiedo di darmi una marmirona, una cimera marmirona e un altro hotel. Numero 12. 12. Io qui ho ammasso di calca, giusto? Non è questa la tua calca vera, no. Non mi chiamo detto, ci saranno neanche questa, giusto? Ora Luca, tu potresti dire al mondo intero, che se la dodicesima calca è la tua calca che solo hai pensato nel medico, è il gioco più incredibile al mondo. Sì, perché di fatto non la puoi sapere. È impossibile. È l'unica città di girare, esattamente 12 città. Vai. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 7. 8. 9. 10. 11. Che cappella è la tua? 6 di picche. Io. Come cazzo hai fatto? Come cazzo hai fatto? Ma tu ti stai rendendo tempo? Spiegati tutte le logiche di questo mondo. Non è possibile. Bravo. Non è possibile. Non è possibile. È da FIS, 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 da FIS. No, questo è veramente un gioco. Mi parlii col prezietti. Cioè, no. Cioè, tu hai pensato? Non l'hai detto. Ma no, no, no. Ma c'è, è strano perché non è possibile. Ma cazzo è regolare. Sì, sì, sì. Ma l'ho guardato prima. Bene, se io venderò questo effetto, compreresti. Guarda, io se fossi un appassionato di preziettazione, comprerai sicuramente. Impressionante. No, no, sinceramente sì. È bello veramente. È strano. Ciao.